E vai. Mi chiamo Manny, indosso ciò che voglio, dico ciò che voglio. H24 G365. Lo so, notevole. Ma non ho tempo da perdere. Je me le fromage blanc. Bisogna lavorare duro, giusto? Puttom. Questo sarà il migliore anno di sempre. E niente al mondo potrà fermarmi. Oh, sì! Mei Mei, la colazione è pronta. Arrivo! Va tutto bene? Beh, sono un orrendo mostro rosso! Non guardarmi! Va via! Ci siamo di già? Scusa, chi hai detto? I nostri antenati avevano un legame mistico col panda rosso. Stiamo scherzando! È solo un curioso difetto del genere di famiglia! Sei coccolosa! Pico, vorrei tanto una coda. Sono un mostro! Ti piaci come sei? Una di noi! Sei di nuovo tu! Qualsiasi emozione forte scatenerà il panda. Abby, colpissimi! Non capisci il rischio che corri? Finirai nel frullatore insieme al panda! Non ci posso cre... Sono sempre stata la dolce e impeccabile Mei Mei! Sìììì! Forse non mi dispiace la nuova Mei. Momuno! Ferma! No! No! It's gonna be me!